In questi ultimi 30 anni sono passati migliaia di film, ma visto che il periodo del muto va dagli anni 10 agli anni 30 all'incirca, quando finiranno questi film? Non finiranno mai, ma non perché noi siamo fortunati o perché abbiamo un sortileggio, diciamo che si può dire che quotidianamente si scoprono nuove collezioni, nuovi fondi e quindi in realtà materiale nuovo ce n'è tutti gli anni. Ma la cosa straordinaria è che da quando noi abbiamo cominciato in questi 30 anni è ripartita tutta un'attenzione nei confronti del cinema muto che ha consentito negli anni di operare anche più restauri sullo stesso film, cercando di essere sempre più prossimi a ripristinare l'originalità dell'epoca che era andata perduta per ragioni di censura, per ragioni di non buona conservazione, per ragioni di cattivo restauro iniziale eccetera eccetera. Quindi film ce ne saranno sempre. Grazie a tutti.